ciao a tutti ragazzi benvenuti anche oggi su moto advisor di cosa parliamo oggi abbiamo parlato nei video precedenti dei consigli sulla moto usata da scegliere una volta che avete scelto la moto che più vi aggrada che più si addice alle vostre tasche dobbiamo però andarlo a vedere questa moto quindi in questo video vi parlerò dei trucchetti per comprare la moto giusta per valutare bene la moto che state prendendo questa è la mia usquornona 450 l'ho presa questo inverno aveva circa una ventina di ore la prima cosa che vi consiglio è quella di dare un'occhiata generica come si presenta la moto in questo caso è sporca io se dovessi andare a vedere una moto usata e me la presentano sporca ok sì ho un'impressione di come è stata usata però preferirei vedere una moto in ordine perché è vero che la moto sporca può darvi un'idea di come è stata usata però può nascondere tante magagne plastiche le plastiche vogliono dire tutto e non vogliono dire nulla questa moto per esempio tutte le plastiche originali ma questo non vuol dire che siano sempre state usate queste in questo caso sì però molti cosa fanno lo faccio anch'io spesso su altre moto l'ho fatto su questa no anche perché non so che grafiche fare sono sincero molti cosa fanno prendono delle plastiche originali le mettono in una scatola e poi quando vendono la moto le rimontano mettono su delle plastiche delle grafiche aftermarket e via le consumano poi quando vendono la moto rimettono su le plastiche originali la moto sembra tutta originale tutta bella la gente ci cade e magari invece una moto con 700.000 ore quindi il mio consiglio è questo non soffermatevi troppo sulle plastiche possono dire tutto e possono non dire nulla stessa cosa per esempio le pedane molti stanno lì guardano le pedane scancherano guardano i perni se hanno gioco ma le pedane le potete benissimo cambiare idem la leva del cambio idem ma un po' meno i carter qui per esempio cambiare questo carter è abbastanza improbabile non penso che ci sia qualcuno che li produce per dire però su altre moto li fanno sia il carter volano che il carter frizione il carter frizione lo potete cambiare io su molte moto l'ho cambiato qui è fatto in questo modo qui che comunque si consuma solo su queste alette e appena appena sulla scritta usquarna non vuol dire nulla su questa moto qui per esempio sulle onda crf idem perché il carter è verniciato a polvere verniciato tra l'altro anche abbastanza male dopo pochissimo utilizzo si consuma subito tanto quello delle onda qui no perché è fatto in un modo che abbastanza improbabile riuscire a scalfirlo profondamente idem il pedalino del freno come vi dicevo appunto le pedane le pedane comunque dategli sempre un'occhiata controllate che lo spigolo sia vivo che non siano molto consumate e può darvi comunque un'idea di come è stata usata la moto la cosa più importante è controllare il telaio le moto giapponesi quelle col telaio in alluminio le ultime specialmente si consuma molto non usano più l'alluminio di qualche anno fa però anche lì basta montare dei dei paratelaio come questi che c'è sullo squarna o quelli della vibrami in gomma e il telaio lo salvate però potete avere anche lì un'idea di come è stata usata se non sono stati mai montati vedete subito qui se il telaio è consumato ecco qui in questo caso c'è una plastica basta cambiarla e come per le plastiche che vi dicevo prima basta cambiare quel pezzo qui e la moto è nuova lo scarico insomma controllate che non ci siano botte che non sia ammaccato specialmente qui che la parte esterna più a contatto col terreno se cadete e anche l'interno per eventuali sassate i radiatori i radiatori è importantissimo controllarli se sono schiacciati o comunque hanno delle arette piegate anche lì vuol dire che la moto magari ha fatto qualche volo dopo dipende da moto a moto per esempio sulla mia onda non sono mai caduto a parte qualche scivolata mi è capitato con questo radiatore di prendere contro un terrapieno ho schiacciato completamente il radiatore sembrava che la moto avesse fatto un incidente anche se non era così controllate i giochi di sterzo delle ruote dei mozzi controllate tutto le ruote è un argomento un po' complicato anche lì quasi tutte le moto ormai montano dei cerchi colorati è molto importante controllare la riga che si forma all'esterno del cerco però anche lì per esempio questa moto qui non ce l'ha la riga e a 50 ore e la mia onda con 50 ore sempre aveva gli stessi cerchi non si erano graffiati se andate a vedere delle yamaka di ultima generazione che hanno il cerchio blu dopo dieci ore ha già la riga bianca anche lì vuol dire tutto non vuol dire nulla qui per esempio abbiamo un tipico esempio di un cerchio di una moto da non prendere perché perché ci sono le cannucce e già lì game over c'è un disco macinato perché è veramente adesso non si capisce dal video ma è veramente pessimo e c'è la riga bianca ma oltre alla riga bianca questo cerchio è stato verniciato ma verniciato con anche sotto il fondo ecco diffidate da una moto che ha su questi cerchi questi sono questa è un'altra coppia di cerchi sempre di una yamaka come vedete qui la riga appena appena si vede però essendo un cerchio grigio si confonde controllate sempre l'originalità della moto io preferisco una moto completamente di serie a una moto pasticciata con uno scarico che non è suo eccetera eccetera questa qui è tutta di serie anche il manubrio anche il paracolpi è tutta completamente originale questo è il mio betone questa moto c'è su un bel po di ore però come vedete ce l'aveva uno che era abbastanza un maniaco quindi le pedane non hanno troppo gioco il pedalino ok è consumato però il carter frizione per esempio ancora bello nero i paratelaio come vedete sono consumati però ci sono su sintomo che era uno che alla moto ci teneva il cerchio posteriore non ha la riga il disco non è consumato non ha il bordino queste sono ancora le sue plastiche originali con le grafiche originali come vedete sono ancora sane dove sono rotte sono stato io quindi qua è volato via l'adesivo anche lì sul parastelo questo qui era uno che ci teneva perché come vedete su molti componenti della moto ha messo il silicone per non fare entrare l'acqua nel telaio nei punti dove ristagna a tanti particolari insomma vedete subito la moto se è curato o meno il conto ora vuol dire tutto non vuol dire nulla qua abbiamo 281 chilometri 12 ore ma io il conto ora l'ho cambiato perché qui è stato rifatto il motore da capopiedi e una volta che ho rifatto il motore ho cambiato il conto ora per ripartire da zero questa qui era una moto che aveva circa 150 ore adesso una 170 nell'enduro non sono cifre esagerate nel cross cominciano a essere un po pesanti per il discorso del conto ora io specialmente su queste moto qui austriache che hanno il conto ora di serie come vedete di fido molto dalle moto che non hanno il conto ora di serie per esempio qui se ci fosse un conto ora e get direi perché hai tolto il conto ora originale cosa è successo e perché se hai tolto il conto ora non sei andato a riprendere quello originale che costo uguale perché insomma è molto facile arrivare a 100 ore togli il conto ora vecchio ne metti uno nuovo con magari 50 ore la vendi come se avesse 50 ore capita ed è una cosa facilissima non fermatevi troppo sui conto ora anche lì vuol dire tutto non vuol dire nulla fermatevi sui componenti che ne so il comando del gas ancora quello originale la viteria che sia tutto uguale sia quello originale i radiatori come vi ho detto insomma date un'occhiata a tutta la moto come è messa e se in condizioni molto simili all'origine controllate le viti del motore che non siano state svitate qui come vedete non sono mai state mollate queste viti qui è una moto con 50 ore quindi della grande manutenzione non è mai stata fatta però per esempio se andate a vedere questa beta le viti del cilindro sono consumate perché sono state smontate queste qui del carterino della pompa della frizione cioè insomma questa qui è una moto che è stata smontata e si vede però è ancora in condizioni ottime non è molto facile molti riescono a camuffare bene le moto vi sembra che la moto abbia 15 ore invece ne ha 700 i trucchetti come vi dicevo sono quelli di controllare il conto ora sulle austriache se ancora quello originale ma si può cambiare benissimo sulle yamaka o yamaha come dicono i più snob c'è la centralina e ci si può attaccare con il cavetto per controllare le ore effettive sulla centralina ma anche lì se prendete una moto di qualche team che magari è stata usata nel mondiale le centraline di serie le mettono in una scatola e le rimontano a fine stagione quindi voi andate a vedere dentro segna che a 10 ore però la moto magari in a 200 stateci attenti la prima impressione quella generale è sempre quella che conta io però mi soffermo sempre sulla tecnica della moto sul cuore della moto sul telaio e sul motore cerchi forcelle plastiche sella è tutta roba che si può cambiare la roba che non si può cambiare o comunque è molto difficile farlo è il motore e telaio quindi soffermatevi di più su quelli direi che abbiamo detto un po tutto dopo ovviamente controllate i materiali di consumo quindi la trasmissione che sia ancora efficiente gomme insomma controllate che la moto sia a posto per un utilizzo a breve termine dopo dovete capire anche voi a seconda del prezzo cosa vi trovate davanti questa qui per esempio è un yz del 2004 è quella che montava quei cerchi di osceni la moto era macinata ma era veramente messa malissimo però l'ho pagata poco adesso sto facendo un restauro la sto rimettendo piano piano tutta nuovo e insomma qui il budget permetteva di prendere anche un cadavere la moto da 1000 euro insomma ci può stare se andate a cominciare a spendere delle cifre attorno i 6 7 mila euro insomma cominciate a guardarla un po bene la moto specialmente se è fresca penso di aver detto tutto ribadisco il concetto una moto originale è sempre consigliabile rispetto a una pastrocchiata dopo dipende ovviamente dal prezzo io non mi fido delle plastiche luccicanti degli adesivi nuovi e soprattutto faccio caso a certe cose i famosi adesivi quelli che faceva che penso che non esista neanche più molte moto usate quelle più merdose concedetemelo hanno sui adesivi perché hanno su questi adesivi perché sono belli perché chi magari li comprava non capiva un cacchio di moto probabile perché costavano poco bingo uno che prende un paio di adesivi c'è un kit di adesivi da 20 euro così adesso sto esagerando ovviamente però uno che prende degli adesivi così economici è proprio uno che vuole sbatterli sulla moto tanto per far vedere che ancora bella e luccicante e darla via non fidatevi delle moto troppo luccicanti non fidatevi delle moto che non montano componenti di serie una marmitta nuova su un quattro tempi o su un due tempi non sempre è un qualcosa in più chiedete sempre i pezzi originali se la moto monta party aftermarket è importantissimo voi ovviamente direte sì bravo rompi tanto i coglioni ma alla fine che moto compriamo come vi dicevo negli altri video il link qua sotto nella descrizione dovete capire il vostro budget dovete capire ovviamente chi vi trovate davanti non sempre comprare la moto di un team o di qualcuno che va forte che corre è un demerito per la moto anzi molto spesso le moto sono molto seguite penso ad alcuni team molto vicini qua nella zona che avevano delle moto che poi rivendevano fine stagione alla fine di usato c'era il telaio il motore forcellone tutto il resto era nuovo le moto costavano poco ci può stare se il prezzo è conveniente ci può stare che la moto sia magari un po usata eccetera dipende molto dalle condizioni una moto tenuta bene di 100 ore molto spesso è migliore di una moto di 20 con 20 o 30 ore però completamente trascurata e macinata che magari non ha mai fatto neanche un cambio olio conosco personalmente molte persone che hanno venduto delle moto con più di 200 ore che erano perfette non parliamo poi dell'enduro c'è le 100 ore del cross sono come le 300 o 400 ore dell'enduro non sto assolutamente esagerando a tanti quando dico che il mio beta 170 ore per l'enduro sono poche perché comunque c'è gente che fa delle uscite di più di 45 ore per volta magari ci va anche più volte la settimana fate alla svelta fare 300 ore in un anno non sto esagerando quindi dovete capire bene qual è la situazione chi è il vostro venditore quelli sono consigli di vita che ovviamente non posso non posso addentrarmi però andare a prendere una moto in uno scantinato andare in un campo rom diciamo che è molto probabile che tornate a casa con una chiavata per chi vende mi raccomando ragazzi non mettete mai annunci dove si veda dove avete la moto dove è nascosta io adesso lo so che continuo a fare dei video qua dentro nel garage però non l'avete mai visto fuori ci sto molto attento occhio perché c'è tanta gente che su queste cose ci macina su e purtroppo in certi periodi è successo anche a uno dei nostri collaboratori di moto avviso quello che sta montando il video gli hanno fregato due moto io mi tocco tocco ferro diciamo che mi tocco ferro così però a me non è mai capitato ovviamente uso e precauzioni qui dove ho le moto ci sono le videocamere c'è un allarme le moto sono incatenate insomma ci sto attento però ragazzi state veramente attenti quando vendete le moto dove le pubblicate anche agli annunci stessi state attenti cioè non ne ho parlato nell'altro video però ci sono veramente degli annunci che sono specchietti per la lodole state attenti ditemi cosa ne pensate se c'è qualcosa che mi sono dimenticato se c'è qualche esperienza che volete riportare ve ne state dimenticando ma mi raccomando fateci i video delle vostre recensioni diteci cosa ne pensate di dei prodotti che comprate delle moto che comprate è importantissimo ragazzi di vitale importanza questo canale questo sito moto advisor siete voi non sono io non è luca non è alberto non sono gli altri siamo tutti insieme se diciamo tutti insieme la nostra ci faremo valere ci stiamo già facendo valere i numeri stanno crescendo ogni settimana stiamo arrivando brevemente a numeri che non potevo nemmeno immaginare sinceramente quando siamo partiti con questo discorso sono contentissimo però ci tengo veramente tanto che voi vi diciate la vostra mettete like iscrivetevi al canale ditemi cosa ne pensate ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao